Secondo me loro hanno giocato molto bene muro difesa, c'era una fatica a fare un punto, però è anche la cosa più bella della palla a volo femminile, quindi bravi loro veramente per la partita che hanno fatto. L'ultimo set comunque c'è una semifinale da giocare, quindi secondo me abbiamo tirato fuori qualcosa in più e sì, una solidarizzazione enorme. Grazie a tutti.